Ok ragazzi, io e il mio compagno di oggi, trenerista, abbiamo appena fatto benzina e adesso siamo pronti, siamo quasi sul passo della Cisa, quindi ci vediamo lì, su strada Ah qui è pieno ovviamente di motociclisti, faccio un cambio anti-tattico perché ci sta bene, non so quanti gradi ci siano però con questi si guida meglio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti